Beh insomma, qualcosetta posso dirle, poi se i miei argomenti non le sembrano adatti a quello che lei deve fare io non lo so, ma io se mi esprimo sinceramente viene fuori una certa mia formazione che non è cambiata e non cambierà mai. Io sono fascista, dal 1928 sono fascista e lo sarò, spero, ancora per tanto tempo. Nel 1928 ho vestito la prima uniforme e da allora non l'ho mai levata. Io sono nato nel 1921, l'Italia mia è nata nel 1922, siamo cresciuti assieme, Io sono cresciuto veramente assorbendo sempre tutti i successi e i traguardi che quest'Italia ha continuato ad accumulare in tutti i campi. Per cui ritengo abbastanza logico che a un certo punto quando è scoppiata la guerra io sentissi la necessità di dare il mio contributo, fare quello che potevo.